Ed eccoci sempre a Sapeu 2023, altro prodotto video, ma questa volta veramente particolare. L'olio della Val Sant'Erno è un olio fatto con un metodo di mulitura a freddo abbastanza classico, però l'impianto nel frantoio è stato curato in modo particolare per la pulizia, per la particolarità del modo in cui vengono molite le olive, selezionate cultivar per cultivar e quindi facendo degli oli da unica cultivar che caratterizzano anche la tipologia di profumi dei polifenoli, degli aminoacidi e dell'olio, in modo tale da classificarli varietà per varietà. Poi vengono fatti anche dei blender, naturalmente, con il DOP Romagna, che ormai è diventato anche una bella nota di sviluppo dell'olivicoltura in Emilia Romagna, e una nota di sviluppo che negli ultimi dieci anni si è particolarmente caratterizzata da anche un nuovo modo di impiantare gli oliveti, non più nel terreno a basso reddito agricolo, dove non ci si poteva andare né con il vigneto o altro, ma sfruttando dei terreni anche particolarmente magari adatti, ma anche particolarmente comodi per la coltivazione e per la raccolta. Quindi recuperare anche terreni, se vogliamo così, disabilitati? Terreni che sono stati anche tolti alla PAC in certi casi, Piano Agricolo di Sviluppo Comunitario, perché effettivamente con il riemergere di un prodotto particolarmente valido, soprattutto per il fatto che noi abbiamo delle colline ricche di potassio, quindi la fascia del potassio parte dal Pesarese fino ad arrivare verso il Farmense, in base alle altitudini e alle temperature invernali, si possono anche caratterizzare delle piccole zone collinari o pede collinari, o anche in prima pianura verso il mare, per un'ottima produzione olivicola, e di qualità e di quantità. Sul discorso si potrebbe andare avanti anche. Certo. Allora, a questo punto intanto, diciamo, dove ti possono trovare? Dove possono comprare i nostri esportatori questo tuo olio? Allora, l'olio della Val Sant'Eno si può trovare alla Val Sant'Eno, nel Frantoio, direttamente, come è in Via di Nola, la figlia del proprietario, così ti dirà più precisamente dove possiamo... Potete trovare da lunedì al sabato, dalle 9 e mezza alle 12 e mezza, in Via di Nola, 1L, Imola. E vedo anche la produzione di prodotti che non sono proprio, come dire, maggiorecci. Sì, il patè di olive, le olive in salamoia, il bagno schiuma, la crema viso e la crema mani all'olio extravergine d'oliva. Infatti, direi che per ora ti diamo l'intervista, ma avremo modo di riprendere anche con tante altre novità. Assolutamente. Di cui ci parlerà successivamente. A breve. A breve. Ciao. Ciao. Ciao.